Sono lo giro e suonano la batteria da tre mesi. Ah, con quale orchestra, mi ci dica? Con l'orchestra musica in gioco e con il maestro Andrea Cargine. Eh, vabbè, ma soprattutto con il maestro Alessandro, inquadriamolo. Ciao! E allora, ci fai sentire un bel rullo? Sì. Vai! Bravissimo! Applauso!